Appena il tempo di rifiatare la Pallacanestro Trapani si trova nuovamente sul parquet del Palaconado per effettuare l'amichevole contro la Fortitudo Agrigento. Una gara che avrà inizio alle 17 e aperta nuovamente al pubblico possessore di Green Pass. Coach Daniele Parente dovrà valutare le condizioni di Igor Biordi, assente nella prima uscita stagionale contro Capodorlando. L'amichevole di oggi comunque può essere una buona opportunità per il gruppo che deve trovare i suoi equilibri in attesa dell'inizio del campionato fissato per domenica 3 ottobre contro Biella. Intanto oggi è l'ultimo giorno per sottoscrivere l'abbonamento soffruendo della prelazione con il capitano Marco Mollura che ha fatto un appello ai tifosi Granata. Un appello che voglio fare da Trapanese, spero che la gente mi possa ascoltare. Il 4 è la campagna abbonamenti, noi abbiamo bisogno di voi, veniamo da un periodo difficile, avervi al palazzo per noi è una grande emozione, un grande stimolo per fare meglio. Vi assicuro che ci divertiremo tanto, quindi spero di vedervi il più numerosi possibile.